Inquinamento PM10 a Venafro, valori abnormi che continuano a superare tutti i limiti. Si pensi che dal 1 gennaio fino al 27 febbraio la centralina Venafro 2 ha sforato per ben 28 volte il valore limite di 50 mg di PM10. 50 volte in due mesi, quando il limite è di 35 sforamenti all'anno e siamo oltre ogni limite. Per questo c'è stato il nuovo decreto urgente del Presidente della Regione Molise che vieta fino al 25 febbraio del 2021 il passaggio per via Colonia Giulia dei veicoli di massa pieno carico superiore a 6,5 tonnellate in arrivo dalla casellina e diretti a Isernia, Campobasso o Castel di Sangro. Mezzi che non potranno più dirigersi verso via Colonia Giulia nel centro abitato della città. Unica eccezione gli autobus di linea. Gli altri mezzi pesanti avranno l'obbligo di svoltare a destra e instradarsi lungo la statale 85 in direzione Sesto Campano e poi prendere la variante di Venafro in direzione Isernia, Campobasso o Castel di Sangro. Inoltre è prevista l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli di massa pieno carico superiore a 6 tonnellate e mezzo provenienti dalla direzione Napoli-Sesto Campano in transito su Corso Campano ad eccezione degli autobus di linea. Stesso discorso chiaramente in senso inverso. Il Comune di Venafro garantirà tutte le azioni indispensabili a limitare la sosta degli autoveicoli lungo Corso Campano e via Colonia Giulia. La regolamentazione della circolazione dei mezzi pesanti, stando al decreto del Presidente Toma, costituisce un valido strumento per alleviare, sia pur in maniera parziale e non definitiva, i livelli di inquinamento nella piana di Venafro e le conseguenze sulla salute pubblica nell'attesa di completare i percorsi di adeguata conoscenza scientifica in corso a cura del CNR di Pisa. Lo scorso 30 gennaio, infatti, a seguito dei superamenti dei livelli soglia di PM10, la Regione, di concerto con gli enti territoriali e con l'ARPA, in un incontro presso il Comune di Venafro, aveva deciso di intensificare il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria della piana, anche con l'ausilio di mezzi mobili. Al fine di indagare puntualmente, per un periodo significativo, le possibili fonti emissive degli inquinanti e avere così elementi probanti per una strategia di risoluzione.